Giornata di grande festa al comunale Giarusso di Quarto, dove la squadra Flegrea, impegnata nella 27esima giornata del girone A di promozione, vince con un risultato tennistico col Sampio Mondragone. 6-0 il finale di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. L'appello lanciato nei giorni scorsi dalle autorità politiche e civili di Quarto, nonché l'invito rivolto dal dirigente unico della nuova Quarto Calcio Luigi Cuomo alle scuole del territorio, viene raccolto in pieno. Un successo per la dirigenza quartese che auspicava una risposta positiva da parte della cittadinanza. E in campo la squadra di mister Amorosetti non delude le aspettative in un sabato che molto probabilmente risulterà decisivo ai fini della classifica finale. Il tecnico Flegreo, ancora squalificato e dunque sostituito da Enzo Di Vicino sulla panchina, non ha particolari problemi di formazione. Spazio dunque al consolidato e classico 4-3-3. Il Sampio Mondragone, penultimo in classifica a quota 19 punti, giunge a quarto con soli 14 effettivi, con mister Saul che dichiara una squadra dell'età media bassissima. La partita si sblocca dopo appena 90 secondi, tanto basta Franco Palma per portare la nuova Quarto Calcio in vantaggio. Tap in vincente, partita in discesa per l'undici azzurro che all'undicesimo raddoppia con Capitano Zinno, bravo a capitalizzare una punizione della tre quarti. Al ventiduesimo continua il monologo azzurro. Aprile, ben innescato da Palma, tutto solo in aria, trafigge l'estremo difensore ospite per il 3-0. Il primo tempo si chiudeva sul 3-0 per i padroni di casa che dilagavano nella ripresa. C'era gloria per il bomber Dauria alla ventesima marcatura stagionale, poi ancora Aprile e Picco. Il giovane attaccante, classe 94, entra al posto proprio di Dauria, trovando la sua prima marcatura in campionato per il 6-0 finale. Da Casagiove, intanto, arrivano notizie poco positive per il quarto. La frattese si imponeva con un parentorio 5-1 sui padroni di casa, superando così un test importantissimo per la stagione e mantenendo la vetta della classifica assieme al quarto. Le due squadre sono sempre più lanciate verso un probabile spareggio promozionale che escluderebbe il Casagiove dai play-off.